Si è raggiunto la consigliera Artesio, a cui so che è stato fatto un rapidissimo riepilogo per aggiornarla su quanto detto. Le lascio la parola. Comunque, io spero di non annoiare replicando argomentazioni che eventualmente sono già state presentate. Direi che ci sono alcuni luoghi comuni e alcune convinzioni persistenti che andrebbero in premessa eliminate, chiarite per sgomberare il campo. La prima questione che a lungo si è dibattuto, anche se adesso sembra paradossale in ambito politico e in ambito sindacale e se la condizione di non autosufficienza sia una condizione di malattia, quindi di competenza sanitaria, o sia un tema legato all'inevitabile deterioramento indotto dall'invecchiamento. Noi siamo, grazie soprattutto alla mobilitazione di tante associazioni di tutela dei diritti dei malati, tra le regioni più avanzate nel definire il fatto che la condizione di non autosufficienza sia una condizione di malattia, quindi una responsabilità del servizio sanitario, responsabilità che viene esercitata attraverso due modalità di intervento, una la residenzialità, quello di cui stiamo parlando questa sera, l'altra la domiciliarità, ma questa seconda non per essere praticata a casa esclude la responsabilità sanitaria anche nella compartecipazione della sanità ai costi di quella che viene chiamata assistenza tutelare, cioè tutta quell'attività di sostegno assistenziale di cui una persona ha bisogno e che sarebbe assolutamente impossibile esercitare la vita se non venisse erogata. Perché dico questo? Perché a lungo, a livello nazionale, nelle politiche nazionali, si fa riferimento a fondi per la non autosufficienza come misure straordinarie aggiuntive dedicate a una particolare condizione, quella appunto degli anziani malati cronici e dei disabili gravissimi, quasi che questo sia un appendice o un supplemento non obbligatorio ma individuabile di legge finanziaria in legge finanziaria al costo generale del servizio sanitario. Così non deve essere. Le condizioni di non autosufficienza sono condizioni di malattia, come tali responsabilità del servizio sanitario sempre, non quando esiste il fondo per la non autosufficienza oppure scompaiono quando il fondo per la non autosufficienza non viene inserito in legge di bilancio. E questo è il primo grande tema. Sembra la palistiano oggi, dopo quello che abbiamo attraversato, fino a tre mesi fa non lo era. Fino a tre mesi fa ancora la tematica della non autosufficienza era considerata una politica di welfare e non una politica sanitaria. Questa è la prima questione fondamentale da chiarire. La seconda questione importantissima è quella riferita alla titolarità del diritto. La titolarità del diritto è in capo alla persona malata. Non è una competenza della famiglia. Mai si sono esercitati in forme così pesanti i comportamenti di uno stato etico quanto sul tema della non autosufficienza delle persone anziane. Perché sia quando si vogliono forzare le dimissioni dall'ospedale, sostenendo che la problematica principale è stata risolta, vuoi che sia la frattura del femore, vuoi che sia un'insufficienza respiratoria, senza tener conto che la persona non è comunque in grado o non è più in grado di essere autonoma anche se si è ricomposta la frattura, anche se si è stabilizzata l'ossigenazione. In quei casi si fa riferimento alla necessità che la famiglia si faccia carico. In tantissimi casi, nel definire la compartecipazione degli utenti, per anni si è discusso di dover guardare al reddito non del malato, ma al reddito familiare. Come se, pensate il paradosso, ogni qualvolta ci fosse una condizione di accesso a una qualunque prestazione sanitaria ospedaliera o sociosanitaria, si dovesse guardare al reddito di tutta la famiglia. Quindi ci sono intrecci antichissimi delle stratificazioni datate nel tempo che hanno sempre di più periferizzato la questione dell'assistenza agli anziani non autosufficienti facendolo oscillare tra diritto alla cura e responsabilità dell'assistenza, responsabilità da condividere con la responsabilità morale dei familiari. Quindi la prima questione che io direi è che per non tornare come prima, e come sappiamo bene, come prima non torneranno tutti i familiari che hanno perso un loro caro, e come prima non torneranno le persone che si sono ammalate, per non tornare come prima partiamo dal principio che non si discuta più che questa non sia una questione sanitaria. è una questione sanitaria, è una responsabilità di politica pubblica ed è una responsabilità che poiché questi settori appartengono all'ambito sociosanitario viene anche compartecipata nella lunga durata dall'utente interessato. Questo è il primo tema. Il secondo tema è che proprio perché è una condizione del nostro tempo, la malattia cronica, la malattia cronica invalidante è una condizione del nostro tempo, la platea delle persone che avranno bisogno di questo tipo di opportunità si allarga molto. E allargandosi è sicuramente uno spaccato economico certo e in sviluppo. E questo ce lo dobbiamo dire perché è sufficiente guardare le varianti urbanistiche adottate negli ultimi anni da molti comuni o le concessioni di carattere patrimoniale adottate dal comune di Torino per comprendere che ogni qualvolta si definisce la destinazione di un'area a servizi e si propone una concessione patrimoniale di quell'area pluriennale, mediamente trentennale ma anche 99 annale, gli offerenti, cioè coloro che concorrono a questo tipo di gare, sono sostanzialmente soggetti gestori di residenze sociosanitari. Perché è un servizio che sicuramente incontra una domanda e sicuramente riesce a garantire nel tempo una sostenibilità. Tant'è che atterrano nel territorio torinese moltissime cordate imprenditoriali, non solo torinesi, non solo italiane, molto spesso francesi. È come dire un segmento di economia molto appetibile in questo momento. In questo quadro quindi dove la prospettiva è quella per la quale la condizione di malattia produce una responsabilità della sanità. L'interesse a investire in questo comparto è elevato. È previsto in questo comparto la compartecipazione degli utenti. Il tema del quale stiamo parlando è il tema di quale qualità di cura e di quale qualità di assistenza le politiche pubbliche si impegnano a garantire per queste condizioni di malattia. E veniamo al tema principale che ho sentito nell'intervento di Perini prima. Vale a dire l'organizzazione della qualità della cura e dell'assistenza. Un'organizzazione che nella vulgata interna viene chiamata come quella dei minutaggi. Allora, il tema di cui stiamo parlando è un tema che ha a che vedere con l'insieme delle competenze professionali che devono essere dedicate alla cura di queste persone. È ragionevole che la presenza infermieristica e la presenza medica abbiano quei parametri? tempestini? Oppure non è ragionevole che non ci sia un'assistenza sanitaria H24 o che i turni del personale infermieristico abbiano una dotazione scandita nelle fasce orarie diurne e quelle serali e notturne diverse tali per cui non siamo in grado di immaginare ovunque le risposte tempestive che sarebbero necessarie? È ragionevole che i minuti da dedicare alle persone abbiano quel tipo di scansione matematica e non invece una diluizione rispetto alla conoscenza del progetto personale e delle condizioni individuali. Quindi esiste un problema di capire qual è l'elemento qualitativo, finora ho parlato di quello quantitativo, dei posti da dedicare e delle modalità organizzative, esiste ora un elemento qualitativo e in questa situazione noi siamo fermi da molti anni in una contestazione rispetto a una terna di atti deliberativi che erano stati adottati dalla Giunta Cota il cui cuore è racchiuso nella questione della DGR 45, appunto quella che definisce i parametri di dotazione organica in rapporto alle necessità e ai bisogni di salute e di assistenza delle persone. La rivisitazione della DGR 45 è una battaglia antica che hanno condotto non solo le associazioni dei malati e coloro che rappresentano i diritti, ma anche moltissimi consorci sotto assistenziali e moltissime amministrazioni comunali. Quindi se non vogliamo tornare con prima, una delle questioni fondamentali è quella per le quali si debbano introdurre, reintrodurre parametri di qualità nei modelli organizzativi all'interno delle residenze e anche io credo, anche se sono certa perché questa è la risposta che ho ricevuto negli anni, anche io credo in ogni occasione nella quale un comune definisce su una decisione urbanistico patrimoniale la determinazione di localizzare delle residenze sanitarie assistenziali, di condizionarle a determinati parametri di qualità assistenziale. I puristi dell'urbanistica e i puristi del patrimonio mi hanno detto e mi diranno che negli atti deliberativi di varianti urbanistiche e di concessioni patrimoniali questi condizionamenti non possono sussistere. Io credo che dobbiamo riscrivere alcuni aspetti normativi e introdurre a tutela delle persone anche queste particolari condizioni di tutela. Per non nasconderci nulla, perché bisogna essere secondo mente elettualmente onesti in questa discussione per poter affrontare un futuro migliore di quello che abbiamo vissuto, del passato che abbiamo vissuto, bisogna anche avere un'altra attenzione. Perché è così difficile far emergere pubblicamente questa discussione e farla uscire dai confini dei rapporti tra le istituzioni? Sicuramente perché la condizione di quella malattia fiacca talmente tanto coloro che se ne occupano, a cominciare dai familiari, che non riescono a costruire un fronte, una solidità, un movimento capace di rendersi così tanto esplicito, anche se gli sforzi delle associazioni sono veramente straordinari. Abbiamo trascorso un'estate, due stati fa, in cui tutti i giorni la Fondazione Promozione Sociale inviava al Presidente della Regione, allora Chiamparino, una cartolina ricordando quante persone valutate con alta intensità assistenziale stessero ancora attendendo di essere inserite in RSA e stessero provvedendo autonomamente con oneri proprie delle proprie famiglie a un'assistenza domiciliare anche quando la residenzialità sarebbe stata una garanzia migliore per l'aggravamento delle persone stesse. Perché facciamo così fatica accanto al tema della sofferenza e della fatica delle persone. Perché c'è anche un dato pesante relativo alla compartecipazione economica delle persone ricoverate. Ogni qualvolta noi introduciamo un elemento che qualitativamente è necessario, per me sarebbe obbligatorio, introduciamo un onere aggiuntivo. Quindi introduciamo un costo maggiore all'interno della, chiamiamola, quota diurna, tariffa diurna di permanenza all'interno della struttura. Poiché questa tariffa è compartecipata al 50% da parte dell'utente, ogni qualvolta noi modifichiamo un impianto, introduciamo una variabile economica che graverà in quota parte anche per gli utenti. Questa è una questione che va detta ed è una questione che chi pensa allo sviluppo, per le persone che pensano lo sviluppo di questo settore, va anche pensata nella logica di costruire alleanze. Alleanze tra le politiche pubbliche che garantiscono la tutela della salute, alleanza tra le professioni che sono chiamate in quelle situazioni a garantirlo e alleanza tra coloro che utilizzano quei servizi. Ed è per questo che, forse l'avrà detto Andrea Cettaglia, la Fondazione Promozione Sociale, nel momento in cui pone il tema dell'innalzamento dei livelli assistenziali nelle RSA, pone anche il tema dell'aumento della copertura sanitaria. Altrimenti noi ci troveremmo nella paradossale situazione di voler migliorare la qualità assistenziale, di voler migliorare la vita delle persone ricoverate, di voler migliorare il trattamento economico dei professionisti e contestualmente di farlo diventare una spesa privata. Cioè quella parte di compartecipazione da parte degli utenti e dei familiari. Questo nuovo che dovrebbe avanzare a livello nazionale e a livello regionale dovrebbe da un lato definire in modo, come dire, irriducibile e ormai indiscutibile che quella è una condizione sanitaria, che è una condizione sanitaria che si aggrava, per cui l'ospite, come lo chiamano coloro che conducono e gestiscono le case e le strutture. L'ospite entra con una valutazione e nel tempo, come ciascuno di noi, come ciascuno di noi modifica le categorie e i parametri del suo funzionamento e quindi le attenzioni che gli dovranno essere dedicate aumenteranno. Aumentando queste attenzioni dovranno aumentare le persone, le ore, le attività che gli saranno dedicate e questo aumento però non può ricadere in modo che diventa sempre più faticoso sulle persone ricoverate, perché stiamo parlando di rette importanti, di rette significative. Stiamo parlando di circa 3.000 euro al mese. Quindi è una forte esposizione economica che viene richiesta. Dal mio punto di vista ci vuole l'alleanza di tutti, quindi mi è dispiaciuto molto che l'ipotesi della Commissione che è stata avanzata dalla Commissione Scandereberg non abbia trovato ancora tutte le adesioni necessarie, non perché si debbano svolgere inchieste su qualcuno o sull'operato di qualcuno, essendo che le inchieste se ci saranno, ci saranno le iniziative dei familiari, ci saranno le competenze di chi deve fare questa inchiesta, ma proprio perché se non socializziamo il fatto che possono essere accaduti episodi eccezionali ed eccezionalmente gravi, ma in realtà la fragilità di base di quella organizzazione mette a rischio di fronte ad un inconveniente inedito la condizione di salute dei più fragili e comunque anche non avessimo avuto un rischio. Avevamo tutti valutato che i modelli di funzionamento non erano adeguati più alle condizioni delle persone ricoverate e si sarebbe dovuto aggiornarli in una condizione di maggiore qualità. Allora usciamo da questa conoscenza con una prospettiva nuova, con una prospettiva di miglioramento, se invece di essere il consigliere comunale Artesi o la consigliera comunale Scandere, beh con la consigliera comunale Tisi che si sono fissati sull'RSA e tutte le volte che hanno l'opportunità fanno un'interpellanza, ci fosse il consiglio comunale consapevole di qual è il contesto di questa organizzazione sanitaria e conoscendo potesse attivarsi per migliorare, io credo che noi svolgeremo il nostro ruolo di politica pubblica ed è per questo che è importante fare questo lavoro, conoscere per trasformare, insomma è un antico stimolo che qualcuno di noi ha imparato nel tempo della politica degli studi. Questo era il mio ragionamento, grazie.